Si conclude in questo mese il progetto scolastico sulla differenza di genere promosso dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. L'unico istituto coinvolto nella regione è stato il Carducci Dante di Trieste. Ci è andato Ludovico Fontana. Nell'istituto Carducci Dante di Trieste si è insegnato il Tai Chi, un'arte marziale, e la danza Hip Hop. In altre scuole in giro per l'Italia ci sono state lezioni di tango, giochi di ruolo, rugby o altre discipline sportive. Tante attività diverse con un solo obiettivo, educare alla differenza di genere per prevenire comportamenti violenti contro le donne. Volge al termine il progetto nazionale Differenze promosso dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che ha coinvolto 14 medie superiori italiane. Unico istituto per il Fliuli Venezia Giulia, il Liceo Carducci Dante. Il progetto era molto articolato e quindi ha coinvolto i ragazzi sia in lezioni in classe, in interventi da parte della psicologa dello sport, da parte del centro antiviolenza, quindi riflessioni sul discorso della differenza di genere. Poi ci sono stati dei laboratori pratici di Pop e di Tai Chi, e poi c'è stata la parte della produzione dei ragazzi di un prodotto finale, uno spot di comunicazione su questo tema. Video che sarà presentato giovedì 26 maggio, con protagonisti i ragazzi e le ragazze delle due classi coinvolte, tra seminari, laboratori e attività sportive. Il gesto sportivo molto spesso aiuta i ragazzi ad esprimersi in una lingua differente, in una lingua diversa, aiuta loro a prendere coscienza di sé, delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri. E come sport sono stati scelti appunto Tai Chi e Danza Hip Hop. Abbiamo scelto il Tai Chi perché era una disciplina poco conosciuta. Infatti le studentesse e gli studenti non avevano mai approcciato questo tipo di sport. E ci piaceva anche l'idea che potessero partire tutti dalla stessa base, zero. L'Hip Hop invece li ha aiutati molto ad esprimere emozioni di vario tipo, attraverso il movimento, soprattutto attraverso la musica, con scelte musicali che sono vicine naturalmente ai loro gusti. Nella prima parte ci sono stati invece dei seminari, anche con il Centro Antiviolenza Goap di Trieste, che ogni anno accoglie e ascolta circa 250 nuove donne vittima di violenza. Un trend è rimasto costante nell'ultimo periodo. Il lavoro nelle scuole è proprio il lavoro preventivo, è la prevenzione principale alla violenza di genere, in quanto è lì che si formano le prime relazioni, i primi rapporti di coppia, le primi rapporti interpersonali, ed è importante che i ragazzi riconoscano fin da subito quelli che sono e che possono essere degli atteggiamenti che possono condurre a relazioni di tipo violento.